Aboliamo le circoscrizioni, aboliamone qualcuna. L'ha scritto su Facebook, quasi una dichiarazione di guerra? No, dichiarazione di guerra no. È un dato di fatto che oggi le circoscrizioni non hanno più una funzione che avevano fino a 10-15 anni fa. È chiaro che da parte del Comune, nel periodo storico in cui viviamo, dove le difficoltà economiche dei cittadini sono tante, le difficoltà dell'amministrazione sono tante perché risorse ce ne sono veramente poche, pensare di tagliare i costi della politica. Noi abbiamo già, come ricordate, abbattuto del 20% le indennità di sindaco e assessori per finanziare le start-up, quindi leviamo dei soldi alla politica per mettere a disposizione le attività produttive dei cittadini. E allora immaginare che le stesse circoscrizioni, che diciamo hanno un costo di svariate centinaia di migliaia di euro l'anno, possono essere ridotte a una parola che è una mezza misura. Noi pensiamo a un'abolizione totale, magari lasciando per circoscrizione quello che una volta era definito il delegato, quindi evitiamo elezioni, evitiamo che ci siano diversi, perché ci sono 10 consiglieri di quartiere a circoscrizione, evitiamo la figura del Presidente che è comunque una figura che è ben retribuita. Eliminiamo una serie di questioni e per cui rendiamo più snelle anche le procedure amministrative. Ritengo che questo sia nel logico della razionalizzazione dei costi, quindi della spending review. D'altra parte Renzi ha tagliato il Senato, che sembrava qualcosa di intoccabile. Non capisco perché non si possono toccare le circoscrizioni di Siracusa, se va nella logica appunto di razionalizzare i costi e dare quindi poi più servizi ai cittadini. Come si può procedere in questo caso? Si procede con un atto di giunta che verrà esitato a breve. Dopodiché la proposta che farà la giunta dovrà essere condivisa, deve essere quindi il resto eseguibile da parte del Consiglio Comunale. È chiaro che hanno acquisito un diritto in questo momento i consiglieri di quartiere eletti e quindi se dovesse passare la proposta della giunta anche dal Consiglio Comunale che ne condividerà quindi i contenuti, si parla dalle prossime elezioni che ci saranno amministrative e che non ci saranno più le circoscrizioni. Fino a quella data resteranno. Si aspetta critiche e resistenze da parte degli attuali Presidenti o dei consiglieri delle circoscrizioni? Mi aspetto come sempre critiche e resistenti quando si toccano questi argomenti che sono degli argomenti che comunque vanno a toccare gli interessi magari di qualcun altro ma oggi più che altro c'è da chiederci cosa serve alla città di Siracusa, cosa serve all'amministrazione comunale e cosa si aspettano i cittadini della politica. Se rispondiamo a questa domanda che ci poniamo in questa maniera è chiaro che la risposta viene da sola.